via libera dall'aula al bilancio 2021 di irpet rispetto alle stime diminuiscono il valore di produzione e di costi rimane rilevante il peso della regione tra le entrate le opposizioni chiedono maggiori investimenti approvata dall'aula la nuova legge sulla mobilità ciclistica si tratta di un adeguamento della normativa del 2012 previsto uno stanziamento fino al 2024 di oltre un milione via libera anche a due emendamenti delle opposizioni quella di irpet è una storia che si ripete ogni anno l'istituto regionale per la programmazione economica viene considerato uno strumento fondamentale però in aula al momento di tirare le somme ne viene chiesta maggiore valorizzazione arrivata al consuntivo 2021 questo quadro è ritornato puntuale il bilancio è passato a maggioranza con 22 voti favorevoli 11 contrari e due astenuti il valore della produzione ammonta 3 milioni 276 mila euro l'entrata principale è costituita dal contributo istituzionale da parte della regione per 2 milioni e 750 mila euro a cui si accompagnano le risorse da fondi europei nazionali e regionali per complessivi 440 mila euro e al compenso per le attività svolte presso terzi per 86 mila euro per quanto riguarda le spese il costo principale è rappresentato dal personale per una montare di 2 milioni 200 mila euro seguito da quello per l'acquisto di beni e servizi come banche dati e consulenze si registra un lieve decremento meno 2,7 per cento della stima del valore della produzione rispetto alle previsioni iniziali formulate per il 2021 l'ammontare complessivo dei costi stimati dalla produzione risulta in diminuzione meno 3 per cento rispetto alle previsioni iniziali per il 2021 in coerenza con il decremento del valore della produzione per quanto riguarda il programma delle attività da un lato c'è l'attività svolta alla costruzione e aggiornamento di banche dati e allo sviluppo di modelli micro e macroeconomici dall'altro la reportistica la proposta è stata illustrata dal presidente della commissione affari istituzionali già con bulliani tra chi ha votato a favore il consigliere stefano scaramelli il consiglio regionale a maggioranza ha espresso apprezzamento per il bilancio preventivo di IRPET l'istituto regionale per la programmazione economica della toscana ha espresso apprezzamento non soltanto alle previsioni del bilancio ma anche al programma di attività annuale pluriennale che è un allegato al bilancio stesso IRPET è un ente estremamente prezioso sia per la giunta regionale che per il consiglio regionale della toscana in quanto svolge un'attività di ricerca un'attività di consulenza per la regione che è particolarmente delicata e incisiva in alcuni settori strategici di governo del territorio le entrate di IRPET sono dovute soprattutto a un contributo ordinario che viene dalla regione un contributo consistente al quale poi si affiancano diverse centinaia di migliaia di euro che derivano dalle risorse dei fondi regionali dei fondi nazionali e soprattutto dei fondi europei sul fronte dei costi IRPET ha chiaramente un costo molto elevato collegato al personale oltre 2 milioni di euro tutta l'attività di IRPET si basa sulla ricerca sulla consulenza e quindi l'investimento nel personale diventa di rilevante importanza oltre che nell'acquisto di beni e di servizi come ad esempio le banche date sulle quali vengono costruiti poi modelli elaborati da IRPET Abbiamo votato a favore un bilancio di una struttura importante della regione toscana che fa analisi quantitativa e qualitativa dei flussi e delle dinamiche che aiutano la politica a decidere un soggetto a servizio dei comuni della regione soprattutto in termini quantitativi riesce a rilevare quelli che sono i movimenti abbiamo chiesto di non fare soltanto un'analisi statica di quelli che sono la rilevazione dei dati ma magari anche di prospettarsi rispetto a logiche diciamo di previsioni andamentali di quelle che possono essere i flussi di cambiamento determinati da processi magari nazionali o internazionali come avviene in questo momento quindi un soggetto che fornisce mediante i propri ricercatori un supporto importante al decisore politico Dubbi sono stati espressi tra i banchi del centrodestra dove è stata sottolineata la mancanza di investimenti sull'istituto poi nei vari interventi Marco Casucci, Francesco Torzelli e Marco Stella hanno aggiunto le loro declinazioni su cosa non va e cosa andrebbe fatto Noi abbiamo votato contro anche e soprattutto perché ci sono diverse zone d'ombra per quanto riguarda IRPET ma soprattutto direi la giunta regionale si è approvato il bilancio di previsione 2022 ma non quello pluriannale 2023-2024 perché di fatto manca ecco il parere del collegio dei revisori quello che noi notiamo è che proprio è un vizio di legittimità a riguardo proprio perché come dicono i sindaci revisori manca la delibera di assegnazione delle risorse da parte della giunta quindi il consiglio regionale ha votato ecco l'atto riguardante IRPET ma con questi rilievi che sono stati fatti appunto dal collegio dei revisori ma anche dalla direzione tecnica. Per quanto riguarda IRPET è un bilancio che è strutturato su voci certe sia di entrata anche se si riduce il contributo regionale di circa 100.000 euro sia per quanto riguarda le uscite il costo principale rimane è quello per il personale. Anche però per quanto riguarda il personale devo ricordare come vi siano dei limiti normativi per l'assunzione del personale stesso perché ecco per questo motivo si continua a ricorrere allo strumento delle consulenze esterne quando invece per noi abbiamo ecco la necessità come regione Toscana di dare agli istituti e tra questi IRPET che potrebbe essere particolarmente prezioso gli strumenti, le risorse impersonali. IRPET è un ente sicuramente utile per la regione Toscana, è un ente utile, è un ente del quale anche da rappresentante di una forza politica di minoranza mi piacerebbe partecipare e votare in maniera propositiva e positiva sui bilanci e sulle linee guida. Purtroppo tutte le volte che arriviamo di fronte al bilancio arriva il bilancio e ci lascia delle situazioni fumose, delle situazioni poco trasparenti che non ci permettono di votare. Quello provvisionale di quest'anno del 2022 arriva nonostante una relazione dei sindaci e dei visori che dicono chiaramente che sia stato fatto in ritardo, arriva senza la pianificazione per gli anni 2023 e 2024, arriva con dei contributi dei quali non viene spiegato niente, 20.000 euro di contributi a IRPET da soggetti terzi. Per capire di cosa si trattava abbiamo dovuto fare un accesso agli atti ed emerge che è un contributo di 20.000 euro che arriva da Ferrovie dello Stato, che non è proprio un soggetto terzo che non ha a che fare con le amministrazioni comunali, provinciali, regionali della Toscana. In molti comuni esistono decontenziosi con Ferrovie dello Stato. Se Ferrovie dello Stato da 20.000 euro a IRPET ci dica per cosa, per quale progetto? Non ci sarebbe niente di male. Noi quando ci è stato presentato il bilancio di IRPET con grandi perplessità siamo andati in aula, abbiamo analizzato tutti i numeri di bilancio e abbiamo dato un voto contrario per due motivi molto semplici. Il primo è perché IRPET ancora oggi fa la fotografia di quello che succede. Guardate, la fotografia di quello che succede, di quello che sta succedendo, non c'è bisogno che ce la faccia IRPET. Basta andare a giro, basta ascoltare i cittadini, basta andare a comprare il pane e capire che oggi il pane costa 4,10 euro, il latte costa 1,15 euro, fare la benzina costa più di 2 euro, che una semplice confanettino di fragole costa 5 euro, basta andare a giro e parlare con le persone per capire che la bolletta della luce costa il doppio rispetto a tre mesi fa e che la bolletta del gas addirittura nelle aziende è triplicata. Basta andare a giro e parlare con le persone, non importa la fotografia di IRPET e non importa mettere 2 milioni e 780 mila euro della regione toscana per sapere questo. Noi da IRPET vogliamo qualcosa di più. La fotografia ce l'abbiamo, ce la dicono i cittadini tutti i giorni. Noi vogliamo capire come reagire, dove dobbiamo andare, dove andranno le aziende, il comparto del tessile e il comparto del calzaturiero, chiuso il mercato russo, dove andremo ad approvvigionarci dal gas, chiuso il gas dalla Russia. Quali turisti verranno nella nostra Versilia e nella Toscana del Sud, visto che i turisti dall'Ucraina e dalla Russia non arriveranno più. Ecco cosa chiediamo ad IRPET. Astenzione è stata invece annunciata da Irene Galletti, che ha messo in risalto sia gli aspetti positivi che negativi di IRPET. Voto positivo è arrivata al contrario da Elisa Tozzi, che si è vista approvare anche un ordine del giorno. IRPET è sicuramente uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per fotografare con esattezza e con dati numerici alla mano la situazione economica, sociale, ambientale della regione toscana e ci dà in mano quei dati per poter agire dal punto di vista legislativo nel modo migliore. La qualità di ciò che ha prodotto nel corso degli anni è sempre stata eccellente. Il problema naturalmente è politico. Se quei dati, se quegli strumenti si utilizzano per una qualità normativa, ha senso continuare ad investire quelle risorse nel bilancio di IRPET. Altrimenti, se come è avvenuto fino adesso, si tratta soltanto di strumenti che servono per lo studio, l'analisi, ma che poi non danno un effettivo riscontro sull'operato politico, tecnico e amministrativo, sono lettera morta. Quindi il nostro giudizio di astensione è legato al fatto dell'utilizzo di IRPET, di quello che si fa col suo lavoro e di altri strumenti, anche come penso la Clause avvalutativa, che è uno strumento eccellente per misurare il rendimento delle nostre leggi, ma che viene molto poco utilizzato dalla regione toscana. Come se si volessero avere dei dati per corroborare ciò che si pensa, ma non per dare giudizio a quel che si fa. Personalmente sono soddisfatta perché è stato approvato anche un ordine del giorno, che era collegato a questo atto, che mirava sostanzialmente ad impegnare la Giunta sul fronte dei maggiori assunzioni per quanto attiene la ricerca. IRPET, proprio perché la sua denominazione, diciamo a caratterizzarlo, può svolgere nell'ambito di tutto quel sistema di società, ma anche di istituti, un ruolo strategico nel momento in cui andiamo a fare un'attività di programmazione. La scelta è rilanciamo questo istituto oppure, come dire, ci soffermiamo al mero dato contabile. Noi siamo convinti che oggi questo istituto possa avere ancora un ruolo strategico ed importante, purché ci sia chiarezza da parte della Giunta. Ricordo che noi siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo, che è l'atto fondamentale per delineare le strategie future di Regione Toscana. Ecco, se riusciamo a fare sistema, a organizzare l'insieme di tutto ciò che è strumentale a fare una programmazione efficace, noi su questo non possiamo che essere favorevoli. L'Aula ne ha quindi respinto un altro, che impegnava ad attivarsi affinché fossero adempiute tutte le procedure necessarie a garantire a IRPET di poter predisporre il bilancio pluriennale 2023-2024 sulla base di programmi e risorse certe. Una svolta decisa verso la mobilità sostenibile. Il Consiglio regionale ha promosso a maggioranza, ma senza voti contrari, una legge che introduce nuove disposizioni per favorire lo sviluppo del trasporto legato alle biciclette. Si tratta di un adeguamento della normativa varata nel 2012 che i proponenti hanno ritenuto opportuno aggiornare. La nuova legge prevede uno stanziamento di oltre un milione per l'attuazione del triennio 2022-2024. All'interno del documento sono contenuti tutta una serie di elementi che intendono coprire l'intero ambito, rendere più incisivo il raggiungimento dei specifici obiettivi di ripartizione modale, aggiornare la definizione di ciclostazione, favorendone la realizzazione, incentivare in coerenza con le disposizioni nazionali lo sviluppo della mobility management, promuovere il servizio di condivisione delle biciclette, la realizzazione di aree a priorità ciclabile e di parcheggi nei pressi dei luoghi pubblici di maggiore interesse, favorire una gestione coordinata degli interventi di manutenzione dei percorsi e dei tracciati, con particolare riferimento a quelli di interesse regionali. Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha ringraziato Laura per la pronta risposta su una legge così attuale, delineata tra gli altri da Stefano Scaramelli che ne ha sottolineato l'importanza in questo momento. Sono orgoglioso che il Consiglio regionale l'abbia votato così velocemente, ringrazio la Presidente De Robertis tutta la quarta commissione per il lavoro svolto, lavorare nel sostenere progetti di mobilità sostenibile, lavorare perché da un lato la Giunta finanzi più piste ciclabili nella nostra regione. Noi siamo la prima ad aver finanziato la ciclopista del Tirreno e la ciclopista dell'Arno, un modo per connettere a T la nostra regione in bicicletta. Investire sulla bicicletta, investire sulla mobilità sostenibile vuol dire investire in turismo, investire in una cultura differente e anche questo è il modo con cui noi dobbiamo guardare con speranza e ottimismo verso il futuro. La Toscana deve porsi l'obiettivo di essere la regione più sostenibile d'Europa e per perseguire questo obiettivo deve lavorare anche in direzioni come quella che abbiamo appena approvato oggi. Questa è una legge che consente di migliorare le strutture nei comuni, che stanzia delle risorse a vantaggio degli enti locali e soprattutto prevede la possibilità di fare investimenti particolari, penso le ciclostazioni, penso dei manager che possono nascere nelle amministrazioni comunali finalizzati a favorire una mobilità sostenibile. Su questa frontiera si gioca tanto della qualità della vita delle nostre città e noi crediamo che questo possa essere un elemento importante che qualifica, che è green, che dà un miglioramento alla dimensione della qualità della vita dei cittadini e credo che i comuni possano e si stiano anche riorganizzando rispetto ai finanziamenti che il PNRR ha previsto rispetto a questa linea di finanziamento. Tra le opposizioni che in maggioranza hanno optato per l'astenzione non sono mancati i commenti positivi, così come altre sottolineature che a loro avviso avrebbero reso migliore la normativa. In questa prospettiva si sono espressi sia Alessandro Capecchi che Giovanni Galli. Nel corso del dibattito sono stati accolti due emendamenti presentati dalle minoranze, il primo per rafforzare l'aspetto sportivo della mobilità ciclistica, mentre l'altro è mirato a precisare che il primo obiettivo degli interventi infrastrutturali dovrà essere quello di una mobilità ciclistica sicura. Abbiamo apprezzato la proposta del Partito Democratico di integrare la normativa relativa alle piste ciclabili, più in generale alla mobilità sostenibile, con alcune osservazioni ci hanno portato poi all'astenzione al momento del voto. In particolare l'introduzione del piano regionale per la mobilità ciclistica, un ulteriore piano che in qualche modo non semplifica ma anzi rende più complessa la realizzazione di queste opere anche perché deve nascere in conseguenza dei piani urbani della mobilità sostenibile e soprattutto dei cosiddetti ciclo plan, cioè dei piani che a livello locale dovranno essere realizzati per la mobilità ciclistica. Abbiamo anche tentato insieme ai colleghi della Lega di introdurre una maggiore attenzione sugli impianti sportivi per dare organicità agli interventi e per mettere in connessione fra loro anche gli impianti sportivi attraverso la mobilità dolce. Proposte sono state bocciate pur prese in considerazione dalla maggioranza dicendo che saranno oggetto di un approfondimento ulteriore. Infine abbiamo posto la questione sul mobility manager che dovrebbe essere quella figura che coordina gli interventi e che quindi lega insieme il piano regionale con i piani locali e abbiamo proposto sia naturalmente o il direttore della direzione sulla mobilità già assunto in regione toscana o comunque un funzionario o un dipendente mentre in realtà la maggioranza ha voluto lasciare aperta la porta anche a possibili consulenze esterne e secondo noi in questo momento sarebbero da evitare. Siamo a favore però all'interno di questa modifica di questa legge abbiamo portato degli emendamenti due dei quali sono stati accolti quello di inserire l'attività anche sportiva all'interno di questa proposta di legge e la sicurezza per i ciclisti. Però cercavamo anche di allargare il discorso anche alle attività sportive visto che loro hanno approvato all'interno di questo emendamento e cercare anche di dare una definizione ben precisa per quello che dovranno essere gli impianti anche per l'attività sportiva ciclistica perché ad oggi ad esempio gli amanti del ciclocross, della mountain bike, delle BMX sono tutte persone che hanno l'esigenza anche di sviluppare la loro attività ecco noi chiedevamo in questo programma triennale di poterlo inserire non di attuarlo immediatamente ma comunque di inserirlo in un contesto che ritenevamo opportuno visto che ormai ormai visto che il ciclismo è la seconda fonte a livello proprio numerico per quanto riguarda l'attività sportiva dopo il calcio. Grazie a tutti.